Bentornati ragazzi in questo nuovissimo video, sarà sempre io Felix, oggi andiamo a vedere una fantastica applicazione che ci permetterà non solo di guadagnare soldi su Paypal con un prelevo minimo di 5 dollari, ma ci permetterà anche di andare ad acquistare prodotti super scontati e ogni volta che andiamo ad effettuare un acquisto su questi prodotti qua andremo a ricevere un cashback, quindi andremo a ricevere un ritorno di soldi ragazzi. Quindi fantastica applicazione, con questa promozione che c'è attualmente in atto si possono guadagnare soldi su Paypal andando a giocare, andando ad invitare le persone e si possono addirittura ragazzi ascoltate bene guadagnare delle monete che ci faranno comprare prodotti gratuitamente senza pagare nulla. Quindi mi raccomando raga seguite questo video fino alla fine e mi raccomando lasciate un bel like per sostenere questo canale di Youtube, ma non perdiamo altro tempo andiamo a vedere come funziona questa applicazione qua. Questa qui ragazzi è l'applicazione, è chiamata Shop Save, vi lascio il link qui sotto in descrizione del video. Questa applicazione qua praticamente ci permetterà di andare ad acquistare a dei prezzi veramente bassi in questo negozio, è un'applicazione tipo Aliexpress e come vedete quando andiamo a acquistare avremo anche un cashback di ritorno, quindi ci ritornano indietro dei soldi. Facciamo un esempio, se vado ad acquistare questo caricatore wireless, come vedete attualmente il sconto al posto di costare 28€ costa 18€ e 47 centesimi, uno sconto del 35%, se lo vado ad acquistare non solo vado a risparmiare dei soldi, ma andrò ad ottenere un cashback di ritorno che va poi nel balance, dopo andiamo a vedere, di 1€ e 40 centesimi. Quindi con questa applicazione qua possiamo acquistare tutti i vari prodotti che sono disponibili, in più possiamo guadagnare soldi prelevabili su Paypal. Prima di andare a vedere come guadagnare questi soldi voglio farvi vedere che andando nell'account in basso nella destra e andando qua sotto dove c'è scritto my cashback, andando nel wallet, qua ragazzi come vedete adesso il mio bilancio è a 0. Una volta che siamo arrivati al prelevo minimo dei 5$ possiamo prelevare su Paypal. Andando ad utilizzare questa applicazione facendo acquisti andiamo a ricevere un cashback dei soldi indietro, in più per guadagnare dei soldi su Paypal, come vedete qua c'è questa schermata qua principale in centro, andiamo a premere su coins. Qua ragazzi come vedete abbiamo un sacco di metodi per guadagnare queste monete e guadagnare ovviamente dei soldi. Ogni giorno che andiamo ad effettuare l'accesso all'applicazione ci darà delle monete con il daily check-in. Andando qua sotto ragazzi possiamo guadagnare ulteriori monete andando a visitare una pagina web per esempio per 15 secondi, andando ad invitare le persone. E qua ragazzi come vedete possiamo poi scambiare le monete per i vari prodotti. Per esempio se vado a premere su limited time redemption, qua come vedete con 3000 monete guadagnate posso andare ad acquistare questo cavo di ricarica USB. Quindi non solo guadagnare soldi ma guadagnare anche queste monete che ci permetteranno di acquistare prodotti gratuitamente. Per ottenere altre monete, per ottenere dei soldi possiamo accedere al coin game. Questo qua ragazzi praticamente andremo a spendere 50 monete per guadagnarne di più. Praticamente è una ruota della fortuna. Questo qua è chiamato coin game. Invece c'è anche il coin lottery. Qua ragazzi possiamo veramente vincere dei soldi. Non solo soldi ma anche prodotti o addirittura le monete o addirittura dei coupon che sono poi i buoni sconto da utilizzare all'interno di shop save. Vado a premere su play. Andiamo praticamente a far girare questa ruota. Vediamo cosa vinco. Ho vinto un acceleratore. Continuiamo. Abbiamo altri due tentativi. Spin. Vediamo se vinco dei soldi. Ho vinto un coupon. E questa qui è la zona delle monete. Praticamente con le monete possiamo acquistare i vari prodotti gratuitamente ovviamente. Andando ad accedere ogni giorno in questa sezione qua. Andando a premere ragazzi qua sotto dove c'è scritto Carnival Shop Save. 200 dollari. Ci premiamo sopra. Qua praticamente abbiamo l'occasione di guadagnare soldi andando ad invitare le persone. Più persone andiamo ad invitare più soldi andremo a guadagnare. Qua in basso dove c'è scritto 5 dollari. Ci premiamo sopra. Qua ragazzi come vedete abbiamo ogni giorno altri premi di andare a guadagnare. Ogni giorno venendo ad accedere a questa pagina qua chiamata 5 dollari. Andremo a guadagnare coupon, monete e soldi che andranno depositati nel nostro wallet di Shop Save. Quindi fantastica applicazione. Vi lascio il link qui sotto in descrizione del video dove puoi andare ad acquistare vari prodotti. Ottieni anche un cashback. Quindi dei soldi ti ritornano indietro. Puoi accedere alle varie promozioni che ci sono in atto per guadagnare soldi e guadagnare le monete. per acquistare prodotti gratuitamente. Bene ragazzi per il video è tutto. Mi raccomando se volete rimanere aggiornati anche su queste applicazioni qua dello Shop. Dove praticamente all'interno mettono delle promozioni per guadagnare soldi e guadagnare praticamente prodotti gratuiti. Iscrivetevi a questo canale e attivate la campanellina. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao da Felix. Ciao.